Ben sintonizzati amici di Lupo Alberto Music Mania, 1979 era l'anno in cui sbarcava un mitico capitano, lui è Capitan Arlok. Il suo testo è una maniera che vuol dire libertà, con l'allare e maggio per un cuore ingranderà. Il suo testo è una maniera che vuol dire libertà, con l'allare e maggio per un cuore ingranderà. Il suo testo è una maniera che vuol dire libertà, con l'allare e maggio per un cuore ingranderà. Grazie a tutti. Nel suo occhio c'è l'azzurro, nel suo braccio c'è il nero e il suo mantento, mentre il cuore bianco è... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.